Ben arrivati a Timeline, buon sabato a tutti, vediamo subito quali sono state le notizie che hanno dominato i social questa settimana. L'Eurovision, il grande secondo posto di Mahmood, grandissima figura in tutto il mondo. Poi la guerra delle api, la guerra fredda tra Stati Uniti e Cina e i problemi per Huawei. Poi problema spoiler perché è finito il trono di spade, i tanti spoiler sui social, alcuni fan sono anche delusi. La scomparsa di un grandissimo, il grandissimo pilota, Niki Lauda, in tutto il mondo lo hanno ricordato con tanti tweet e in tante foto. E infine food blog perché questa settimana ci sono tante notizie che riguardano il mondo cibo e noi parliamo di questo in compagnia di una grande stella, lo chef Fabio Picchi. Ben arrivati a Timeline. Ciao caro. Grazie per essere qui con noi, grazie Fabio per aver accettato l'invito. Allora, cibo e social, siamo davvero curiosi di avere una tua visione proprio su questo mondo e noi siamo andati proprio sul tuo profilo per vedere un po' come racconti il cibo sui social eccetera. Questa è una prima foto, hai scritto non so perché ma sono felice. Eh ci credo perché ero... Se stai bene in mezzo diciamo... No, guarda, il mio mestiere mi porta a frequentare, a conoscere, a volte anche a diventare intimo amico di grandi talenti. Io ho grandi talenti fra i potatori di olivo, fra gente che va in mare e pesca i nostri pesci, fra i contadini eccetera eccetera eccetera. Questo è un grandissimo macellaio che ha coinvolto persone, ha investito soldi, sta facendo rischio d'impresa e il suo rischio d'impresa sono queste mortadelle che erano appena uscite calde e lui voleva farmela assaggiare, aveva insistito, ha insistito, ha insistito, ma l'ha fatta assaggiare calda. E' una roba da proibire. Ah, calda? Sì, ti giuro, quella roba lì dietro è calda. Ma è meraviglioso, ecco perché sei felice, l'ho scritto, è giustificato. Se volete risolvere i problemi delle droghe nel mondo, cominciamo a spacciare mortadella calda. Mortadella calda? Sì, perché crea proprio un orizzonte di felicità, specialmente se vengono da maiali che hanno vissuto bene, non in crudeli allevamenti, ma allo stato brado, semibrado. Quindi la gioia della vita è la mortadella calda, scoperta di questa macchina. Sì, sì, alle 9 di mattina. Molto bene, secondo post, abbiamo trovato questo tuo banana cake e mi faceva ridere perché il primo commento è la ricetta però, cioè ti chiedono in tantissime ricette e tu hai risposto, hai scritto, quel che pensano i gatti è la bellezza del mistero. Vuoi tenere il mistero? Ma no, per l'amore del cielo, però io faccio un dolce ogni due anni, questo è nato tre settimane fa, proprio da un atto di gola, io fin da piccolo davanti a qualsiasi tipo di banana sono felice. Anche la banana, oltre alla mortadella, mi crea stati di felicità. Avete mai provato a inzuppare una banana in un caffellatte, per esempio, a mangiarla? No, nel caffellatte mi manca. Allora, queste banane sono delle banane, anche queste, dal mercati veramente eco e solidali. Ne avevamo comprato un'esagerazione, è arrivato un improvviso giorno di caldo, in mezzo a un inverno che non finisce più, e ho detto oggi faccio il banana bread o il banana cake. Intanto, ho visto anche in altri commenti che gli chiedono ricette, 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 cioè capita spesso che gli utenti le chiedano ricette? Capita, 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 e io gliele do anche molto volentieri quando si tratta di cibo salato. Sui dolci! Un po' di mistero non fa... Un po' di mistero non fa male, ma anche perché questo è ancora in fase sperimentale, stiamo giocando con i gradi, 10 gradi in più, 10 gradi in meno, è già molto buono, ma la darò quando sarà definito. Ok, siamo pronti, allora voglio arrivare all'attualità social, perché la cucina questa settimana, una prima notizia, Igenio Massari, il grande maestro che è stato nominato miglior pasticcere del mondo, questa è una prima notizia, insomma, è bella notizia per l'Italia, un po' meno, una notizia un po' meno bella per l'Italia è, non so se l'ha letto, Jamie Oliver, grande imprenditore, ha 7 milioni di follower sui social, cosa è successo? Leggiamo questa notizia, il crack dei ristoranti finti italiani di Jamie Oliver chiudono 25 locali, quindi i locali italiani di Jamie Oliver chiusi, tra l'altro in questo tweet che è diventato virale, è serato dispiaciuto per i migliaia di dipendenti che rimarranno a casa. Picchi, tu da imprenditore, cosa ne pensi di questa... Beh, è interessante perché dei suoi ristoranti che hanno chiuso, cioè hanno chiuso tutti praticamente, meno quelli che lui aveva negli aeroporti, e questo è interessante perché giusto appunto non ho mai mangiato niente di Oliver finché a Vienna, qualche mese fa, sono entrato nel ristorante di Oliver, il ristorante finto italiano, e secondo me, da imprenditore, le cose ti possono andare bene per mille motivi, ma puoi avere anche un improvviso inciampo. Io credo che gli inciampi, alle volte, lo dico per esperienza, sono assolutamente salutari, ti fanno riflettere, ti fanno capire che devi condividere alcuni passaggi e non andare spedito. Questa storia del finto italiano, eccolo appunto, almeno lì in quel posto di Vienna, era un po' imbarazzante anche per me, insomma. Un burro con dentro del pesto infilato su una carne può essere anche una splendida idea, ma se la carne non proviene da allevamenti dove il benessere animale, torna a dire, è la prima regola, perché poi quando le cose vengono ben curate, il risultato è che per noi c'è un buon nutrimento. E io almeno il buon nutrimento lo sento. Quindi in questo caso, diciamo, la cucina italiana non è stata ben rispettata, quindi potrebbe essere questo il motivo, possiamo dire, del faglimento. Sì, 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 sì. A me la cucina italiana mi piace fatta da tutti. Forse il più grande spaghetto al pomodoro che ho mangiato nella mia vita l'ho mangiato a Tokyo e ho visto due cuochi che leticavano perché uno aveva scritto nel suo libretto quattro foglie di basilico e un altro aveva scritto sei foglie di basilico. Io più programmaticamente gli ho preso le quattro foglie e glielo ho fatte diventare otto perché erano enormi. Ecco, molto bene. Però lo spaghetto era uno spaghetto pugliese, c'era un pomodoro di donoratico, c'era un parmigiano fantastico. Quindi quello che io voglio capire è che è possibile mangiare bene italiano nel mondo, non solo in Italia? Assolutamente. La cucina, chi pensa di racchiudere la cucina dentro un recinto è matto. Gli uomini, le idee e quindi anche le ricette se è lecito, si muovono, corrono nel mondo e boom, boom, boom. Quindi si può fare. Le faccio vedere questo hashtag, lo conosce, il food porn, un fenomeno social. Cioè quando viene condiviso un piatto sui social si usa questo hashtag che vediamo a 198 milioni di post, è utilizzato tantissimo. Perché? Perché le persone per pubblicare i propri piatti lo utilizzano. Per esempio questo lampredotto, è talmente bello che viene utilizzato questo hashtag per insomma pubblicare. Come lo vede questo? Perché questo lampredotto c'è la salsa verde, è un cattivo uso degli ultimi vent'anni. Si fascia sempre con tutto il lampredotto. Per noi fiorentini il lampredotto è come, veramente, è un atto sacro, non si tocca, si rispetta. È un atto di religione. Neanche farlo apposta abbiamo applicato il lampredotto che non è, diciamo, fatto bene. Quindi il problema è la salsa. Sì, ma guarda che ho visto anche far cose peggiori, ho visto metterci il ketchup, lì abbiamo dato proprio di balta al finto ambulante, perché se sei ambulante fai un mestiere santo, ti alzi la mattina presto, vivi dentro i mercati, dai nutrimento, dai nutrimento caldo, dare cibo è un atto materno, sto parlando in senso metaforico, è cosa seria è dar nutrimento. Allora il lampredotto, quando tu dai un morso a un panino con il lampredotto ben fatto, ti senti proprio accarezzato dalla vita, ti passa ogni rancore, hai delle prospettive diverse da quel momento in poi. Ma se tu cominci a metterci peperoncino, che vedo lì, o ci metti salsa verde, aglio, guarda io adoro il peperoncino, adoro la salsa verde, adoro l'aglio, ma il lampredotto è un buon brodo di cottura, l'unica variante è il pane, lo vuoi poco insuppato o tanto insuppato? L'unica. L'unica. Quindi i social possono anche... E poi Pepe. Ecco, quindi male chi pubblica foto sui social, perché poi potrebbero poi appunto essere criticate da Fabio Picchi, che insomma vede che avete comprato il panino sbagliato. Sì, io poi punto sempre sul fatto che quando vedo una foto, tanto il pomodoro olandese lo becco sempre, ovunque, ovunque, ovunque. Il pomodoro è un atto stagionale, se si continua a mangiare pomodoro in gennaio, si fa un atto criminoso nei confronti del pianeta e anche delle persone a cui lo offri questo pomodoro. Cioè, quando è che bisognerebbe mangiare pomodoro? Quando sono maturi. Quando sono maturi. Ha fatto questo progetto e ha messo i pomodori in estate, lo ha fatto con un senso. E con le mostro tantissime altre foto appunto pubblicate con questo hashtag. Ecco, il salmone. Ma quello che voglio capire è perché viene così esibito il cibo sui social? Qual è l'aspetto che si è scattato? Si parla seriamente per 30 secondi o almeno ci si prova. Il cibo è sempre stata comunicazione, no? C'è appunto, noi arriviamo a questo mondo, respiriamo in automatico e c'è qualcuno che ci accoglie poi dandoci del nutrimento. Questa si chiama responsabilità amorosa dell'accoglienza. Non sto facendo politica in questo momento. Forse anche, sì. No, no, no. Domani si vota quindi non facciamo politica. Però questo atto dell'accoglierti, tutti noi, tutti noi ci siamo passati. Non saremo qui io e te se qualcun altro non ci avesse dato nutrimento. E questo nutrimento poi continua, via via che cresci, no? Che diventi adulto, ma continua anche andando oltre il cibo. Una poesia è nutrimento, cinema è nutrimento, un accordo musicale è nutrimento, il teatro è nutrimento. E queste foto sono nutrimento? A un certo punto si è interrotta la comunicazione che era quasi sempre familiare, almeno qui in Italia in maniera particolare. Però questo vale anche secondo me per il resto del mondo. C'è stato un vuoto. Le donne giustamente sono uscite dalle cucine. Hanno detto, sai che arrangiati. Certo, hanno cambiato tutto. E allora... E come mai viene così esibito? Perché poi conta più l'aspetto estetico, non sappiamo se è buono. Basta che sia bello e viene pubblicato. Guarda, io dico sempre ai giovani cuochi, state lontani da Lu Bellino. Se te ti scatta davanti una foto Lu Bellino, fai un passo indietro. Se ti parte Lu Buono, ed è un meccanismo automatico, ti si riempie anche la bocca di che cosa? Dell'acquolina in bocca, diceva il collodi. Guarda che è salivazione, guarda che sono enzimi. Il cervello che noi abbiamo è molto... Quindi l'insegnamento che dà Fabio Picchi oggi qui in diretta e fidiamo con questo bellissimo insegnamento... Fidarsi di se stessi. State lontani da Lu Bellino. Da Lu Bellino. Io sono bergamasco, quindi Fiorentino fa difficile. Da Lu Bellino, va bene. E vi conoscete in voi Lu Buono. Lu Buono, giusto. No Lu Bellino, sì Lu Buono. Grazie Fabio Picchi per questa chiacchierata interessantissima. Sabato prossimo con Timeline Focus. Grazie a tutti. Grazie a tutti.